ciao a tutti ciao a tutti amici guardate chi c'è qua c'è la vanessa e c'è la erika una streghetta wow che paura paura ma nello stesso tempo siete bellissime vi fate un girettino e vi voglio vedere i vostri costumi di halloween io sono una farfalla tu sei una bella farfalla eccola andiamo ragazze dobbiamo andare mamma ho tanta fame andiamo a mangiare andiamo andiamo poverine da qua è stamattina che sono usciti di casa con dolcetto scherzetto guardate le caramelle ci troveremo qualcosa qua vicino andiamo andiamo ragazze wow ma fa paura qua guardate ragazzi guardate c'è un scheletro di là c'è una radiatela grande hai visto vanessa e c'è anche una strega andiamo andiamo entriamo qua guardate che bello wow vincere a vizio sono cadute le caramelle le caramelle buongiorno 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 ragazze buongiorno signora scusate abbiamo fatto un po' di casino qua cosa vorrete voi abbiamo tanta fame avete fame e allora facciamo una pizza si ma la facciamo insieme si ho un'idea facciamo una pizza di halloween si allora dai venite dentro che andiamo a prepararsi per fare la pizza guardate ragazzi che sono bella è bello l'impasto facciamo la pizza Erika allora facciamo prendete l'impasto uno e questo no metterlo così qua in farina e metti la farina sopra Vanessa vieni anche tu di qua ok la mettiamo qui danni le vanine così wow Irina ti fa vedere come la devi girare lei è molto molto brava hai la pizza grande grande adesso porto il cucchiaio che mi diamo il pomolo è una poccata ti sei sporcata significa che tu sei divertita a fare la pizza qua girarla così però Erika aspetta devi tenere la manina così aspetta dammi questa mano così brava tu da sola guarda vedi che fai da sola metti nello nel cerchio così schiacciando vai così wow io posso assaggiare? certo tu devi assaggiare non è che puoi devi Vanessa com'è la mozzarella? buonissima buona buona Vanessa se la Vanessa ha detto che la mozzarella è buona significa che è molto molto buona adesso facciamo delle streghette wow delle streghette sì ma come si fa? col prosciutto col prosciutto questa più grande per te e questa più piccola per la Vanessa guarda Vanessa devi mettere qui come fa la Erika questa è più piccola sì tu hai la streghetta un po' più piccola schiaccia bene sì schiacciata la streghetta ok adesso fai fare la Vanessa aspetta 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 fammi vedere la streghetta eccolo è la streghetta di Vanessa ehi ma dov'è la streghetta amore? l'hai mangiata l'hai mangiata? sì che bella mi piace mi piace quella di mangiare con la pizza pronta wow la mettiamo lì in forno lo sai annusa che profumo wow si sente il profumo che buono mi schiaccia un pochino buona Vanessa cosa fai? mangi no ehi Vanessa va a mangiare è un filo di ragnatella giusto? eh sì mamma si chiama Elena la tua mamma? sì sì eccola qua pronta ok brava aspetta che io ti avrò il forno e che la mettiamo insieme va bene? e guarda si dovrà mettere lì dentro bravissima adesso tocca a Vanessa la dovete mettere dentro attenta Vanessa dentro spostati e la mettete lì dentro ciao pizza non vediamo l'ora di mangiarti guardatela wow che profumo già si sente il profumo cosa prepari qua? ragazzi adesso vi preparo una sorpresa Vanessa wow una sorpresa questa pizza dopo prenderà fuoco wow volete vedere? sarà una magia sarà una magia una magia di Halloween vieni di capo sì sono pronte le pizze wow guardatela Vanessa com'è? buona buonissima ma a me chi mi dà un pezzettino? a io tu no ma cosa stai facendo? quella me la dai no io voglio una intera sì Vanessa mi dai una fetta ok e anche tu mi dai ciao ma grazie cosa stai facendo vai no io voglio quella con la strega voglio quella sì questa fetta la voglio questa? sì quella la voglio me la dai mmm sì ma che buona yummy che gusto ragazzi questa pizza è buonissima la dovete mangiare anche voi sì la pizza di Halloween sì adesso facciamo una magia sì vediamo un po' di sopra la pizza sì sì guarda la giriamo dal forno però state un po' attente spostatevi così è una pizza magica questa e lo sai? wow è una magia guardaci il fuoco sopra la pizza è la magia di Halloween cosa stai facendo? ecco no è bello di non avvicinarti state attente di nuovo si mangia ragazze ma volete un dolcetto? dimmi facciamo una pizza dolce sì wow la pizza dolce ma c'è anche la pizza dolce Vanessa con voi la pizza dolce? sì la facciamo con nutella fragole cosa vuoi? è una nutella con la frutta stiamo mescolando la panna mettete anche panna sopra è il gusto della panna di fragola wow mettete la mescola guardatela guardatela ecco è pronta la pizza arriva wow com'è la pizza ma è buona anche la pizza dolce c'è la dovete guardare è molto molto buona la panna la nutella la frutta fresca la Vanessa che sta mangiando la nutella no 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 no